Il dottor Sandler Non deve assolutamente lasciare al dottor Sandler il seguente messaggio. Non deve assolutamente prendere l'aereo per Baffalo delle 10 e 15 di domani, è una questione di vita o di morte. Sono appassionanti i racconti di? Einstein aveva ragione. Ma di che cosa parla questo libro? Cosa c'entra Einstein? Sono dei racconti, ispirati alla legge della relatività. Oh, bella, direte voi? E cosa c'è di nuovo? Ce ne sono migliaia di racconti di fantascienza. Sì, è vero, ma questi sono speciali. Perché a scriverli è stato un vero professore di fisica dell'Università di Milano.